Ricevendo questo attestato acquisirete ancora più consapevolezza di essere già famiglia. Sono queste le parole con le quali Monsignor Michele Giordano ha concluso la messa celebrata durante la giornata conclusiva del corso di preparazione al matrimonio. Per sei mesi 13 coppie guidate dagli sposi Marco Failaci e Angela Provenzale, nonché da padre Vittorio, padre Giovanni e sor Marta, hanno percorso le tappe di un viaggio intenso ed emozionante alla scoperta dei contenuti anche evangelici del matrimonio sacramento. Gli effetti civili, gli aspetti psicologici afferenti alla vita di coppia, i metodi naturali per la regolazione della fertilità sono alcuni degli argomenti oggetto degli incontri ai quali i futuri sposi hanno partecipato in un clima di accoglienza fraterna e festosa all'insegna del confronto. Un cammino di preparazione al matrimonio che ha puntato sull'essenziale. La Bibbia è da riscoprire insieme in maniera consapevole, la preghiera nella sua dimensione liturgica ma anche in quella domestica da vivere in famiglia. I sacramenti, la vita sacramentale e la confessione in cui il Signore viene a dimorare nei fidanzati e li prepara ad accogliersi veramente l'un l'altro con la grazia di Cristo. Un lungo viaggio che domenica è giunto al termine con una giornata all'insegna della preghiera, della testimonianza e della convivialità. Adesso la mia musa scioglie le vele e brinda la salute di Maria Paola e da te. Un momento di riflessione sulla bellezza della vita coniugale e sulla gioia della condivisione. Perché per usare le parole di Papa Francesco, un cristiano che non è gioioso nel cuore non è un buon cristiano. Grazie. Grazie. Grazie.